Giulio Giorello Buonasera e benvenuti, è ovviamente un piacere ma anche un grande onore essere qua a fare da ospite per Giulio Giorello. Chi sono io? Io sono Pier Cesare Secchi, sono un matematico che si occupa di statistica e sono in segno qui al Politecnico di Milano. Chi è Giulio Giorello? Credo che non ci sia bisogno di grandi introduzioni però lasciatemi lo stesso leggere qualcosa dal suo curriculum. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che Giulio Giorello sia laureato in filosofia ma sia anche laureato in matematica all'Università di Milano. Ha sostanzialmente insegnato sempre come università di riferimento, ha sempre avuto un'università di Milano ma ha insegnato anche in altre università a Pavia, a Catania e anche al Politecnico di Milano sia in corsi di ingegneria che in corsi di architettura anche allo Juav di Venezia, dire il vero, leggo dal tuo medaglione. Lo leggiamo spesso, Editorialista del Corriere della Sera, dirige da quasi da 30 anni, dal 1990 o comunque dagli anni 90, dirige la collana di Scienze e Idee di Raffaello Cortina, che è una collana molto ricca, ho visto che ha qualche centinaio di volumi ormai in attivo e particolarmente quasi 300. Però appunto sono 30 anni qui. Beh, però insomma voglio dire, ho una collana ricca. Gli interessi vanno dalla filosofia della matematica iniziale e oggi rapporti tra scienza e libertà intellettuale. Allora, ovviamente è impossibile citare l'intera bibliografia di Giulio Giorello, però su questo tema che forse riprenderemo anche durante il corso di questa discussione, nella serata, sul tema di scienza e libertà. Voglio citare il fatto che Giulio Giorello ha curato l'edizione italiana dell'Europagitica di Milton e poi insieme a Marco Mondadori il saggio sulla libertà di John Stuart Mill. Dopodiché la produzione ovviamente anche recente è molto ricca, l'etica del ribelle per la terza, la matematica della natura per il mulino nel 2016, libertà con bollati i boringhieri del 2015. Io direi che abbiamo una persona con la quale discutere di, o questa sera, di il rapporto tra la scienza, la scienza nel 2017, la scienza ovviamente distorta dalla mia visione, perché a Milano si dice che io faccio lo statistico e non posso quindi che avere una prospettiva che è quella dell'analisi dei dati. Però spero che questa prospettiva, che in qualche modo informa di sé le domande che rivolgerò a Giulio Giorello, ci permettono anche di avere una prospettiva, una visione più generale tra i rapporti oggi, tra la scienza, la società, l'etica, con alcuni punti di riferimento chiave. Allora, facendo lo statistico, oggi la domanda, le due parole magiche negli ultimi dieci anni sono state quelle di big data. Cosa sono i big data? Sono le grandi raccolte di dati e informazioni che vengono generati e archiviati dalle aziende, dalle amministrazioni, dalle istituzioni bancarie, alle assicurazioni, gli ospedali, ma anche dai social network, anche dalle amministrazioni pubbliche, anche dagli istituti nazionali di statistica. Sono grandi raccolte di dati, molto eterogenei tra di loro, che descrivono molti aspetti del reale, ovviamente dai fenomeni di carattere naturale e fisico, ma anche però fenomeni di tipo sociale, economico, descrivono le nostre abitudini, i nostri modi di viaggiare, le nostre propensioni all'acquisto, il modo in cui dialoghiamo e di che cosa dialoghiamo con gli altri. Insomma, una potenziale descrizione quasi esaustiva del reale, che porta però con sé a alcune idee. Big data non è un oggetto, ma è forse un modo, un approccio, un modo di fare analisi e dell'informazione, che ha generato anche alcune idee che sono in discussione in realtà nel mondo scientifico. Una delle idee che mi piace discutere questa sera con Giulio Giorello è l'idea che il metodo scientifico, così come lo abbiamo ricevuto, cioè un metodo che è fatto di una teoria, spesso formalizzata in un modello, che spiega la realtà sperimentale già acquisita e però anche predice nuovi fatti e che viene sottoposto a verifica attraverso le previsioni, un metodo, una teoria che poi magari viene cambiata perché le previsioni non sono coerenti con quanto dice il modello, in un processo iterativo. Ecco che questo metodo, che è quello che noi in qualche modo abbiamo ricevuto, sia morto, sia finito. Che non abbiamo più bisogno di teoria, non abbiamo più bisogno di modelli, basta ormai acquisire i dati, studiare le associazioni tra dati, osservare le associazioni tra dati e che questo sia sufficiente per fare scienza. Voglio citare un lavoro che è molto famoso, è diventato molto famoso, ancorché pubblicato su Wired, che non è proprio un giornale scientifico, ma è un giornale di grande diffusione, che dice nel 2008, da parte dell'editor di Wired, dice fine della teoria, fine dei modelli. Oggi abbiamo i dati. C'è chi sostiene anche che in realtà, di fronte a queste masse di dati, la mente umana abbia, il cervello umano addirittura, si dice, abbia raggiunto i suoi limiti. Non siamo più in grado di costruire nuova conoscenza quando la base di partenza è così ricca e complessa. Si dice, dobbiamo, per costruire nuova conoscenza, dobbiamo affidarci all'intelligenza artificiale, ad algoritmi che esploreranno e costruiranno scienza in modo automatico. E addirittura si fa riferimento a un programma scientifico di Bacone che in qualche modo viene contrapposto a quella visione del metodo scientifico che prima descrivevo. Ovviamente non è che tutti, neanche coloro che fanno analisi dei dati, probabilmente mai compreso, non siamo d'accordo con questa visione. Ci sono filosofi, cito un altro allievo di Geimonat, Cellucci, che ovviamente dicono, no, guardate che state prendendo l'uccele per lanterne, Bacone non diceva questa cosa, e quindi la cito come possibile spunto di discussione questa sera, però di fatto la domanda è, l'era dei big data segna l'inizio, o forse anche già in parte un inizio che è già iniziato da tanto, l'inizio di un cambiamento, di una discontinuità nel modo in cui pensiamo al metodo scientifico, oppure invece è niente di nuovo, semplicemente le dimensioni sono maggiori, ma la scienza non ha ricevuto alcuno scossone dall'arrivo dei big data. Io direi di organizzarci per domande. Molto bene, grazie. Intanto volevo ringraziare gli amici del Politecnico per questo invito, ringraziare voi signore e signori, care amiche e cari amici che siete venuti qui, anche se oggi il traffico milanese era particolarmente ostile a qualunque forma di spostamento che non fosse di qualche passo. Vorrei innanzitutto ringraziare per questo invito, anche perché il Politecnico per me è un luogo molto caro, avendo avuto il piacere di svolgere alcune lezioni e alcuni corsi al Politecnico sia per architettura sia per ingegneria, in particolare al corso per ingegneria matematica. E quindi è un po' un tornare a casa, è anche un tornare a casa perché abitavo da ragazzo molto vicino a questa zona e quindi è sempre un piacere essere qui con tante persone come voi così interessate e così pronti, io credo, a far domande e ad aggiungere considerazioni. Il problema che è stato toccato è un problema evidentemente molto grosso perché talvolta io sento nelle risposte sulla questione, data anche da degli addetti ai lavori, che può succedere che i big data e la stessa applicazione dell'intelligenza artificiale nella ricerca possano portarci a scoprire correlazioni inaspettate e questa è una scoperta senza dubbio importante. Ci sono stati dei casi, alcuni di questi casi non sono di scienze teoriche, sono di scienze pratiche, di applicative. Molta speranza oggi è riposta verso questo tipo di approccio nel campo della biologia e della medicina. Quindi si tratta senza dubbio di una conquista e mi sembrerebbe sbagliato demonizzarla. Come tutte le conquiste ha un lato positivo e un lato negativo. Recentemente mentre vedevo in statale la proiezione di un film girato da Werner Herzog sopra proprio, diciamo così, la grande proliferazione non solo di centri di calcolo con l'opportuni meccanismi, ma d'altra parte di una rete di comunicazione che permetteva lo scambio di informazioni in tempi molto molto rapidi, mi ha colpito la battuta di uno dei personaggi coinvolti, uno degli addetti ai lavori che diceva che tutto questo permetterà probabilmente di rendere la ricerca più rapida, ma comporterà, temo, un spegnimento del nostro senso critico. E questo effettivamente mi fa un po' andare d'accordo con una persona con cui ho avuto il piacere di lavorare anche insieme per molti anni, che è l'amico Carlo Cellucci dell'Università di Roma, oggi alla retrette, in pensione, ma comunque un uomo sempre molto attento a questo tipo di problemi e mi sembra che l'idea di Cellucci sia ancora un'idea importante. Cioè vogliamo molti dati, ne vogliamo sempre di più, ma dobbiamo avere forse neanche una teoria, ma qualcosa come una idea guida che ci faccia guardare a quei dati che poi considereremo rilevanti e pertinenti per noi. Sotto questo profilo mi concedete una piccola citazione, una delle poche che cercherò di fare qui, ed è dedicata a uno degli scienziati che amo di più, che è Charles Robert Darwin. Darwin, nella sua elegante e brevissima autobiografia, scritta tra l'altro inizialmente a beneficio dei familiari, spiega molto rapidamente qual è il suo modo di procedere. Che è questo? Non riesco appena ho dei dati importanti a non fare un'ipotesi che debba spiegarli. Può darsi che acquisendo nuovi dati sia costretto ad ammettere che l'ipotesi non sta in piedi. Allora vado avanti, cerco nuovi dati, ma nello stesso tempo mi formulo una nuova ipotesi e così via, finché non ho raggiunto un equilibrio soddisfacente tra i dati a mia disposizione e l'ipotesi che ho formulato. Agisco così e poi aggiunge, e non posso fare altrimenti. Io trovo che questa uscita di Darwin sia meravigliosa, tra l'altro quel non posso fare altrimenti. Oggi che siamo a 500 anni dall'inizio della riforma protestante, mi fa ricordare la battuta di Martin Lutero alla dieta di Worms. Qui io sto saldo e non posso fare diversamente. E così era Darwin. Qui sto saldo, se il saldo vuol dire vado avanti a fare ricerca, non mi spavento degli insuccessi e questa mi sembra la cosa che debba fare. Non credo che ci siano delle descrizioni della procedura scientifica belle e nel suo tempo umane come questa che Darwin ci ha dato. E Darwin, quando mette giù gli appunti della sua autobiografia, queste brevi note autobiografiche, per la famiglia innanzitutto, è già l'autore dell'origine delle specie e anche l'autore dell'origine dell'uomo. Cioè ha già dato alla luce quelle che sono state le due pietre miliari dell'innovamento delle scienze biologiche promosso da questo grande scienziato. Cosa dire? Secondo me l'anteggiamento di Darwin ha ancora senso in un periodo di tanti dati, anzi sono di nuovo d'accordo con Cellucci. Direi che ancora di più non possiamo fare altrimenti che formulare ipotesi, cercare di inquadrare i dati nell'ipotesi, far vedere quanto sono rilevanti, se l'ipotesi poi non tiene non la difendiamo in maniera stupidamente ostinata, ma cerchiamo di esercitare l'arte di cambiare idea. E l'arte di cambiare idea è un'arte, perché non credo che ci sia alcun algoritmo che ci dica come dobbiamo cambiare idea. Ci dice che magari dobbiamo cambiare idea, ma non ci dice come. L'arte di cambiare idea è forse quello che io considero l'aspetto più liberante e creativo insieme della ricerca scientifica. Ti ringrazio, mi conforta di sapere che appunto non è ancora morto il metodo scientifico, o perlomeno di avere la tua opinione in tal senso. Ecco, ci ho detto, e qui passo alla mia seconda domanda, ci ho detto, è anche vero che gli algoritmi dell'intelligenza artificiale in realtà sono o stanno avendo anche molto successo. Molto successo nel costruire, nel formulare previsioni corrette. Però qui bisogna, come dire, fare un attimo un passo indietro. Non più tardi di credo di un paio di settimane fa, Nello Cristianini, che è stato anche un allievo del Politecnico di Milano, ancora che adesso non insegni qua, ha fatto un interessante seminario in cui, raccontando la storia dell'intelligenza artificiale, ci spiegava che, mentre i primi tentativi erano dei tentativi top down, cioè che cercavano di replicare o di comprendere i nostri modi, il modo umano di essere intelligente e quindi di costruire conoscenza sulla base di una intelligenza del fenomeno studiato e quindi cercavano di costruire algoritmi che replicassero l'intelligenza. Oggi invece gli algoritmi dell'intelligenza artificiale sono bottom up, cioè semplicemente partono da una... avendo come input moltissimi dati, costruiscono previsioni sulla base dei dati, ma senza necessariamente avere una rappresentazione interna del fenomeno, quindi senza permetterci poi di avere conoscenza del fenomeno. Non possiamo aprirli e capire allora quali sono le relazioni tra le variabili per comprendere come viene generata la previsione. La previsione è corretta e ci fermiamo lì. Alcuni dicono, bene, è quello che mi serve, non stiamo a domandarci il perché, l'importante è che funzioni. La preoccupazione naturalmente è che funzionano fintanto che sono stati, diciamo così, nutriti con insiemi di dati pur grandi, ma in qualche modo non distorti rispetto al fenomeno che in qualche modo devono spiegare. Naturalmente la preoccupazione è che, poiché non possiamo usare le nostre capacità critica, appunto, nei confronti dell'algoritmo, non ci accorgiamo quando l'algoritmo mal rappresenta la realtà che cerca di predire. Allora, esempi dove un uso scorretto, diciamo un uso un po' facilone di algoritmi per la previsione stanno creando anche in parte disastri, ne abbiamo già. Il più famoso di tutti è questo che vi voglio citare, che è quella che ormai viene chiamata la parabola di Google Flu, quando Google ha iniziato a predire i casi di influenza o di malattie di tipo influenzale negli Stati Uniti sulla base delle ricerche che venivano fatte su Google di questioni connesse all'influenza, dai farmaci a dove si trova il medico più vicino, a che tipo di influenza arriverà negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Un modo indiretto di capire, quindi, quanto l'influenza stava aggredendo la popolazione americana. Tutto ha funzionato bene fino a un certo punto, fino al 2013. Nel 2013 le previsioni di influenza fatte da Google sono state incredibilmente maggiori, più del doppio, di quelle che poi si sono effettivamente verificate. Sembrerà una cosa banale, ma voi potete capire che sulla base di queste previsioni si spostano grandi quantità di risorse e anche grandi quantità di risorse economiche, perché se abbiamo una certa previsione di influenza dobbiamo poter allocare risorse, denari, medici, farmaci, eccetera, eccetera, per poter curare questa. L'avere un sistema che predice, diverso dai sistemi usati dall'equivalente dell'Istituto di Sanità americano, poneva un problema. Al contrario, l'Istituto di Sanità americano era riuscito a fare con metodi tradizionali, quindi per mezzo di una analisi epidemiologica, modelli, statistici, previsione, serie storiche e quant'altro, era riuscito a fare delle previsioni corrette. A questo punto si è posto il problema, ma forse questi big data usati in questo modo forse non ci stanno dicendo le cose che vogliamo sapere e Google Flu è stato chiuso. Ciò nonostante il problema rimane. Un uso scorretto, poco trasparente, dove non riusciamo a capire quale tipo di rappresentazione del fenomeno viene implementato dall'algoritmo, può essere pericoloso. Ci si interroga a questo punto su altri campi dove questi algoritmi di previsione basati sull'analisi dei dati ma senza rappresentare il fenomeno stanno diventando comuni. Uno per esempio sono i metodi di pulizia preventiva, l'idea che possiamo prevedere dove avverrà un crimine sulla base dell'analisi, ormai anche la nostra polizia prevede crimini alle farmacie piuttosto che sulla base semplicemente di un'analisi dei dati dei crimini. Però il problema è che se questi algoritmi li nutriamo con delle basi dati che sono distorte, che vedono alcune parte della popolazione più che altro, che non sono in grado di rappresentare il fenomeno, potremmo avere poi delle previsioni particolarmente distorte e non abbiamo controllo quindi sul meccanismo di previsione. Alcuni è ovviamente, non certamente contro il progresso, ma stanno iniziando a riflettere su questo uso non controllato dell'intelligenza artificiale. Allora, la questione la riassumo, per esempio i colleghi di AI Now, ma anche noi qui al Politecnico, il gruppo Meta, insomma diversi gruppi in realtà di scienziati che lavorano sui dati, che credono nella analisi dei dati, ma che forse credono un po' meno in un uso cieco dell'algoritmo che fa previsione. La domanda in sintesi è, una conoscenza che fa solo delle previsioni corrette, senza però rappresentare il fenomeno, può essere chiamata scienza. Voglio dire, la scienza, così come la conosciamo noi, spiega e poi formula previsioni. Ma se solo siamo in grado di formulare previsioni, stiamo ancora accrescendo il nostro livello di conoscenza? Stiamo facendo scienza oppure è un'altra cosa? Ma intanto io mi guarderei bene dal contestare che uno dei punti forti della scienza siano predizioni di successo. Perché è questa la ragione per cui la scienza è diventata così pervasiva anche in ambiti a cui all'inizio non si era pensato. Nella rivoluzione scientifica dei tempi di Galileo in gioco inizialmente era solo l'astronomia. Poi Galileo, dopo il processo e l'essere stato costretto a una infame abbiura, Galileo fu comunque in grado di porre, attenzione qui, le basi matematiche di due nuove scienze, che erano la meccanica e la resistenza dei materiali, o se vogliamo dire anche una forma un po' più audace, la costituzione della materia di cui siamo fatti anche noi. Certo, queste due discipline come ambiti di ricerca non erano certo nuovi, hanno antecedenti molto importanti e significativi. Per esempio, non solo in Aristotele, che era uno dei bersagli polemici di Galileo, ma anche negli antichi atomisti, che aveva un'impostazione radicalmente diversa da quella che sarebbe poi diventata la vulgata dei peripatetici. Ecco, Galileo perché riteneva che fossero nuove? Perché riteneva che erano matematizzate. Perché riteneva che in queste due scienze, meccanica e struttura della materia, prendesse corpo quello che aveva ubicato un po' di anni prima, quando era ancora lontano dagli arresti domiciliari nella sua villa d'Arcetri, probabilmente. ma era appunto il libero cittadino che nel 1623 diceva che, e questo è importante, il mondo è un grande libro scritto in caratteri geometrici. Elencava qualcuno di questi caratteri, quadrati, triangoli, cerchi per esempio. Dopodiché aggiunge una cosa che quando si fa questa battuta di Galileo, talvolta non si dice, che secondo me è molto importante. Ed è per questo che noi non ci sentiamo costretti a seguire le pedate altrui, le pedate sono le orme degli altri, ma possiamo ragionare in modo autonomo. Allora, questa autonomia è secondo me la prima grande dichiarazione di indipendenza dei tempi moderni. viene prima della dichiarazione di indipendenza politica, viene più di un secolo prima della dichiarazione di indipendenza politica, è un'indipendenza intellettuale nel senso pieno del termine, ed è stata formulata con una chiarezza che definirei cristallina. E questo è veramente molto importante. Poi si potrà obiettare che altri a quei caratteri geometrici hanno aggiunto dei nuovi caratteri, curve e superfici che Galileo per esempio non aveva preso in considerazione. qualche d'un altro cambierà alcune delle soluzioni galileiane nel leggere il libro del mondo. Tipico esempio, le orbite dei pianeti non sono orbite circolari, come pur le disegna Galileo ancora nel dialogo sui due massimi sistemi del mondo, ma sono curve diverse, sono ellissime, fatti specie, e via discorrendo. Quindi questo vocabolario matematico è aumentato e con questo vocabolario matematico è aumentata la nostra capacità critica. Cioè di non essere vincolati a seguire quello che hanno detto gli altri, ma poter rischiare in prima persona nuove e interessanti congetture. Questo è lo spirito che voi trovate non soltanto in Cartesio, non soltanto in Newton per esempio, ma in tutto il grande dibattito che accompagna la diffusione della conoscenza tra 6 e 700, cioè nell'età moderna, ed è una conoscenza che tocca l'astronomia, tocca quella che noi chiamiamo abitualmente fisica, comincia a toccare la chimica, con alcune difficoltà, ma comincia a toccare la chimica. Robert Boyle scrive un chimico scettico, non a caso. Scettico qui vuol dire che usa l'atteggiamento critico e poi va avanti fino alla grande sintesi newtoniana, della quale diceva John Stuart Mill, un po' dopo che Newton sia ricongiunto col suo signore, diceva John Stuart Mill, noi non saremmo così certi se non fosse stato dato a tutti la possibilità di cercare di confutarla, cioè di esercitare di nuovo lo spirito critico. Ora io non vedo perché lo sviluppo dell'informazione e l'elaborazione dell'informazione attraverso macchine, diciamo così, per essere molto brutali nel parlare, debba essere qualcosa di antitetico all'uso dell'atteggiamento critico. Ancora una volta penso di essere d'accordo con il mio amico e collega Carlo Cellucci su questo. A maggior ragione, se temiamo, come qualcuno teme, che la massa di dati ci costringa a rimarcare solamente correlazioni, quindi l'atteggiamento critico dovrebbe essere esercitato con ancora più maggiore perseveranza ed energia. Naturalmente questo non vuol dire buttare via le correlazioni, questo non vuol dire guardare con disprezzo, dall'uditi come si diceva una volta, le macchine vecchie e nuove, soprattutto le nuove. Mi piace ricordare qui una battuta di un caro amico che era del Politecnico, tra l'altro, e che era una persona molto attenta a questi aspetti, il suo nome era Sommalvico, il quale le diceva perché si deve opporre l'intelligenza artificiale all'intelligenza umana, perché non usarle tutte e due, senza fare l'errore di pensare che una sostituisca l'altra, perché sono diverse e hanno finalità diverse. hanno delle finalità che, mi permetto di rubare una parola di bora, sono complementari, non sono antitetiche, a seconda di che prospettiva noi assumiamo, ricordiamo all'una o invece che all'altra. Devo dire che in questo sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Sommalvico e con quello che ha ripetuto anche recentemente appunto l'amico Carlo Celluce, che tu hai già avuto la gentilezza di citare. Ti ringrazio molto. Sì, ecco, Sommalvico, uno dei padri, diciamo, dell'intelligenza artificiale, ancora io credo con una visione però appunto per cui l'intelligenza artificiale avrebbe replicato e quindi si sarebbe messa a fianco al modo in cui l'intelligenza umana poi comprende alcuni fenomeni. Adesso vorrei spostarmi più su dei temi forse più legati all'etica o comunque al tema dell'interazione tra macchina o algoritmo e individuo. Una cosa, di nuovo, al solito ho la mia buco della serratura attraverso il quale guardare la realtà, che è sempre quella dell'analisi dei dati, questo faccio di mestiere. Allora, una delle possibilità o delle opportunità che i big data ci danno è quello di iniziare a costruire delle politiche pubbliche di tipo personalizzato, o di precisione, usiamo dire. Possiamo iniziare a pensare di avere o di costruire trattamenti individuali ancorché fatti su una base collettiva. L'esempio più ovvio da citare in questo momento è quella della medicina di precisione. L'iniziativa, qui vi riporto il Presidente Obama, che illustrava l'iniziativa della precision medicine nel, credo, 2015. Oggi ci sono diverse iniziative a livello mondiale, anche in Italia, che stanno, come dire, finanziando e costruendo grossissimi centri di ricerca i quali cercheranno di capire le relazioni che stanno tra le dimensioni che tipicamente descrivono il singolo individuo, cioè la sua storia, il suo profilo genomico, i suoi usi alimentari, l'ambiente nei quali vive, il suo tipo di attività fisica, il tipo di patologia che ha subito nel passato, eccetera, eccetera, e come in queste dimensioni possa essere calata la cura per una particolare patologia. Quindi una cura che sarà diversa, costruita sartorialmente, diciamo così, su ogni singolo individuo. Per arrivare a questo ovviamente dovremmo costruire ancora molta scienza, però l'idea sembra da tutti considerata come buona, un passo di nuovo verso appunto la cura dei singoli e la cura dell'individuo. Però c'è un aspetto sulla quale mi piacerebbe riflettere con te, che è questo. Per arrivare a questo l'individuo deve trasferire parte di quella informazione che lo dichiara, che appunto lo definisce in quanto individuo, fuori di sé, alla collettività. In questo modo perdendo parte di quella che è la propria autonomia rispetto al collettivo. Questo trasferimento di conoscenza che permette poi di costruire una politica personalizzata, beh, forse se parliamo di cure mediche non abbiamo grossi difficoltà ad accettarlo, ma proviamo a pensare se la stessa, per analogia, la stessa cosa la facessimo sull'istruzione, per cui istruiamo il singolo individuo solo in modo personalizzato, solo sulla base del suo, diciamo così, patrimonio genetico, culturale, eccetera, eccetera, o per la giustizia. Ecco, come ridefiniamo, diciamo così, l'individuo in questo contesto? Come ridefiniamo il concetto di uguaglianza, di equità in questo contesto? È facile parlare di uguaglianza quando la legge impone un limite, oppure impone un vincolo, che è uguale per tutti. Ma in una situazione, in una visione di politiche personalizzate, questi vincoli possono essere, cambiare e essere diversi per ogni singolo. E allora l'equità, dobbiamo, come dire, avere un altro concetto di equità e un altro concetto di uguaglianza. Su questi problemi, forse, appunto, di nuovo, è bene in qualche modo rifletterci prima, piuttosto che dopo. Questa è una domanda che ti pongo, o rispetto alla quale mi piacerebbe avere maggiori strumenti intellettuali io, in realtà, per poterci ragionare. Ma questo è un grandissimo problema. Un grandissimo problema che proprio si lega alla nozione di individuo. perché, da una parte, noi vorremmo un'uguaglianza e quindi che tutti fossero trattati allo stesso modo o che non ci siano, ad a certi trattamenti, vie d'accesso privilegiate. D'altra parte, però, ogni individuo è diverso da un altro e la diversità, in molti casi, è molto marcata. Noi lo sperimentiamo, credo, anche adesso, nella vita di tutti i giorni, quando incontriamo delle persone che sono magari naturalizzate cittadini italiani, ma vengono da tradizioni diverse e non solo sono diversi da noi per cultura, tra virgolette, per desideri, per esigenze primarie, ma anche perché pratiche che per noi sono illecide, per loro sono lecide e viceversa. Questo è veramente il grande problema dei diritti individuali, tra cui ci deve essere anche quello la propria diversità. Ora, io credo che la medicina personalizzata di cui tu parlavi prima sia stata una grande conquista, sia stata una grande conquista e sia un elemento anche di sicurezza per il paziente, che in questo modo si può sentire più capito. Però, attenzione, un conto è la cura del corpo o magari la cura della psiche. Un conto sono altre forme di personalizzazione che possono essere piuttosto ambigue e addirittura possono diventare una prevaricazione, li hai già accennato tu, nella vita politica, nel mondo dell'educazione, nel modo di fare carriera dal punto di vista professionale. Quali sono le ragioni per cui viene preferito un individuo o un altro nell'assegnazione di un posto di lavoro? Non sto a toccare banali fatti di cronica recenti dove sembra che tutto funzionasse tranne il merito e la competenza. Però questo non è un segno buono, non è un segno di una società efficiente che è capace di utilizzare bene le riserve di conoscenza di cui disporre. E qui direi che il punto di fondo è un punto di fondo etico-politico, non è quindi, glielo dico subito, una colpa dell'algoritmo o una colpa delle macchine o dell'automazione. Mi sembrerebbe improprio colpevolizzare un algoritmo. Non credo che metteremo mai in galera la radice di 2, o meglio, l'algoritmo per calcolare i valori approssimati della radice di 2. Dopo però ti voglio fare una domanda più specifica. Quello che io credo che sia importante è invece una trasparenza nelle relazioni delle persone. Quindi una scelta per cui un individuo si vuol sentire libero e responsabile. Deve essere libero e responsabile insieme. Non libero e basta e non responsabile e basta, ma unendo le due componenti come quasi fosse un biglietto da visita che presenta appena si trova a che fare con il pubblico. Eh già, ma hai detto bene, libero e responsabile, ma per fare questo abbiamo bisogno non solo di maggiore conoscenza di quanto trasferiamo verso l'esterno, ma anche forse di codici comportamentali che ancora non possediamo. tutti noi qua non ci sogneremmo, io in questo momento non mi sognerei se no mi chiederei di snudarmi, ma snudarmi nel senso fisico, di togliermi i vestiti, però forse abbiamo meno codici comportamentali e meno capacità di comprensione di quanto ci disvelliamo quando per esempio invece agiamo in rete. Non abbiamo ancora sviluppato questa capacità di mantenere la libertà individuale che è fatta anche dalla costruzione appunto di un confine di autonomia rispetto invece all'esterno. Allora su questo ovviamente si gioca molto anche delle diciamo delle politiche di precisione o personalizzate perché vuol dire che sto svelando, i singoli svelano quanto serve per poi adattare cose buone, la medicina di precisione o cose magari un po' meno buone come la politica di precisione o i messaggi politici eccetera eccetera. Quindi dice bene c'è un problema di libertà e di individuo e forse anche di ridefinizione. Hai citato questa è una domanda molto no no era un commento ovviamente insidioso certo perché abbiamo tutti visto come oramai si riescono a fare campagne politiche personalizzate siamo tutti consapevoli che oramai le assicurazioni possono studiare il nostro profilo di rischio guardando a come interagiamo su Facebook e quindi ci fanno piani ovviamente assicurativi personalizzati che può anche essere una buona cosa come i prezzi per quando compriamo un biglietto per l'aereo il prezzo cambia addirittura a seconda della macchina del computer che tu stai usando da dove stai facendo quindi la personalizzazione nell'interazione con le istituzioni con le aziende eccetera eccetera c'è ed è anche indipendente spesso dalla nostra consapevolezza forse dovremmo acquisire però maggiore consapevolezza nella disvelamento che noi facciamo della nostra individualità in modo da mantenere quella libertà di cui parlavi tu prima sì io parlavo prima di libertà e di responsabilità tenendo conto che una libertà senza responsabilità non è nemmeno libertà d'altra parte però se siamo responsabili in un qualche modo ci si deve riconoscere che aspiriamo a una forma di libertà sempre maggiore e mi rendo conto che questo è un compito molto difficile è un compito molto difficile perché come tu dicevi prima giustamente nessuno qui credo a meno che non ci sia un orattus esibizionistico immediato che può sempre capitare ma normalmente nessuno qui improvvisamente si alzerebbe si strapperebbe via la camicia o peggio passerebbe a strapparsi i pantaloni e poi si batterebbe selvaggiamente con le mani sul petto non lo farebbe nessuno non ci aspettiamo che succeda ecco però io ho la sensazione che sulla rete l'equivalente dello strapparsi via il vestito e di battersi il petto mandando delle urla o degli insulti equivalenti a un urlo o forse peggio di un urlo sia purtroppo una cosa abbastanza diffusa non c'è che con pazienza educarsi al nuovo mezzo per prove ed errori proprio come si fa nella scienza che si procede per prove ed errori per tentativi meglio ancora ed errori no? guardate che quando è nata una delle grandi invenzioni che ha ridimensionato la comunicazione per molti versi o l'ha cambiata profondamente pur tuttavia si è avuto lentamente un'educazione a questo tipo di comunicazione parlo della diffusione del libro a stampa la diffusione del libro a stampa all'inizio è sembrato un meraviglioso gioco di intelligenza di un tipografo particolarmente sveglio Gutenberg naturalmente la stampa è stata usata subito per stampare un po' di Bibbie insieme e ovviamente data l'epoca insieme sono state stampate dei bellissimi testi che imitavano nella loro bellezza gli antichi testi miniati poi però sono cominciati a girare una pletora di libretti libracci librettini i quali li hanno riempito le biblioteche molti sono andati perduti ma è stata un'epidemia di libri voi forse avete in mente la battuta di quel personaggio di Notre Dame de Paris che prende un libro a stampa guarda una bellissima vetrata le vetrate venivano usate per raccontare per esempio storie della Bibbia a chi non sapeva leggere se ormai cominciavano a sapere leggere tutti e giravano i libretti più a buon mercato se la tu eras si cioè questo ucciderà l'altro era pessimista come giudizio però non è stato un giudizio così vero perché si è andato avanti a fare belle vetrate si è andato avanti a comunicare delle belle storie con le immagini l'arte non è stata uccisa dall'arte della stampa Lutero si rallegrava che grazie alla stampa sarebbe stato dato rapido corso alla riforma siamo all'inizio del 500 1521 più o meno quindi pochi anni dopo la famosa martellata con cui inchioda le tesi Lutero alla chiesa di Wittenberg e un secolo dopo o poco più Galileo Galilei dice che bella invenzione la scrittura con soli 24 caratteruzzi o giù di lì si riesce a mettere giù le proprie idee e a comunicarli a quelli che vivono dall'altra parte del mondo o tenerli lì per quelli che verranno dopo di noi magari millenni dopo e questo è l'uso intelligente della stampa che come vedete non ha ucciso le arti per fortuna non ha ucciso il gusto talvolta anche stravagante di cercare delle soluzioni grafiche rilevanti ma è stato un mezzo che ha permesso diciamolo la nascita della scienza come noi la conosciamo non è l'unica ragione della nascita della scienza moderna ma è sicuramente una delle forti componenti che l'hanno resa possibile io mi auguro che la intelligenza cosiddetta artificiale l'uso delle macchine che ci permettono anche di inquadrare l'informazione che ci arriva e il modo intelligente di leggere grandi dati grandi massi di dati sia un qualcosa che entri in questo tipo di produzione intellettuale però è possibile che insieme a questa buona produzione intellettuale ci siano un mucchio di errori di slittamenti di arretramenti e di imbarbarimenti senti prima no questo ce lo auguriamo tutti in realtà nessuno vorrebbe ritornare a una situazione pre internet siamo però ovviamente osservatori talvolta preoccupati di quanto di come appunto l'imbarbarimento sia pervada uno strumento che invece tutti noi utilizziamo in modo per altri per altri scopi però prima hai detto una cosa che ovviamente mi dà la possibilità di passare alla mia quarta ed ultima domanda non metteremo non metteremo un algoritmo in prigione non metteremo tu hai detto radice di due ma insomma un algoritmo in prigione e beh la mia ultima domanda è proprio su questo tema perché quanta responsabilità quanta responsabilità di esseri umani vogliamo e possiamo trasferire all'algoritmo allora scendo subito su un tema che stiamo dibattendo molto sia a livello tecnologico ma andrebbe dibattuto anche a livello diciamo etico molti pensano che il futuro del trasporto privato sia nell'auto elettrica e a guida autonoma guida autonoma vuol dire che oggi siamo già in grado di costruire algoritmi che permettono alle macchine di guidarsi da sole avendo cognizione dell'ambiente nelle quale si muovono e quindi evitare gli ostacoli di evitare gli altri veicoli di procedere a velocità che siano compatibili con l'essere umani che sono trasportati all'interno del veicolo eccetera tutto questo dovrebbe tra l'altro trasformarsi in benefici collettivi perché vorrebbe dire un uso più intelligente delle risorse minore inquinamento minore spreco di energia eccetera eccetera e però questo vuol dire che la macchina che si guida da sola dovrà anche prendere una serie di decisioni che oggi sono delegate magari all'ultimo diciottenne che ha preso la patente però è un essere umano siamo pronti a in questo trasferimento prima parlavo di trasferimento di informazione adesso anche di responsabilità siamo pronti a trasferire questa responsabilità a un algoritmo questo che vi mostro è la moral machine dell'MIT nel tentativo l'MIT sta cercando di condurre esperimenti nel tentativo di cogliere come reagisce un essere umano di fronte a situazioni che impongono scelte nel tentativo poi di programmare il tutto su una macchina e l'esempio è quello questo è un esempio ma l'esempio è quello credo che si chiami il problema del carrello ferroviario perché venne formulato prima dell'introduzione delle macchine a guida autonoma ma si trasferisce perfettamente alle macchine a guida autonoma una macchina a guida autonoma di fronte a una situazione come quella che vedete in questa slide dovrà prendere una decisione dovrà decidere se andare adosso a quattro persone che stanno attraversando uccidendole oppure andare adosso a un muro uccidendo le persone che sono trasportate ora un algoritmo non può usare il codice della strada in modo flessibile possiamo programmarlo in modo che sia flessibile ma è una flessibilità che abbiamo deciso noi ex ante allora quanta responsabilità vogliamo trasferire sull'algoritmo guideremmo mai saliremmo mai su una macchina a guida autonoma per cui sappiamo che l'algoritmo in una situazione come questa decide di uccidere gli occupanti cioè la compreremmo mai quella macchina lì ecco naturalmente però questo dilemma deve essere in qualche modo risolto e affrontato e naturalmente poi ci sono anche delle altre tipi di conseguenze nel caso in cui comunque l'incidente accada di chi è la responsabile per usare la tua domanda chi mandiamo in prigione chi è il cattivo l'algoritmo chi è dentro nella macchina ma non la sta guidando chi ha fabbricato la macchina come risolviamo questi problemi che ci vengono posti da una situazione molto pratica una macchina che si guida da sola sì sì questo è un grande problema mi rendo conto benissimo ma io credo che non possiamo attribuire all'algoritmo l'algoritmo è semplicemente un insieme di istruzioni per un calcolo non è niente di più che si possono eseguire come avrebbe detto già Bacone meccanicamente ecco non credo che possiamo considerare l'algoritmo colpevole è forse più colpevole chi ha deciso di utilizzare quell'algoritmo in quella situazione anche qui la responsabilità va appurata con tutta una serie di considerazioni a cui forse il nostro diritto non è ancora preparato ma questo è un invito ai miei colleghi che studiano legge soprattutto quelli che come dire hanno delle idee creative in campo della legge di dedicarsi a questi settori ce n'è in Italia qualche d'uno per esempio Giovanni Ziccardi che è un docente della statale molto bravo è anche uno che sta studiando problemi di questo tipo chi è responsabile di un tra virgolette incidente quando c'è una macchina che è stata programmata e che in teoria va da sola e non ha bisogno ma tu la programmeresti sentendo la voce della maggioranza come dire siccome la maggioranza ha deciso che si uccidono il pedone e non si uccidono gli occupanti della macchina oppure sulla base di una regola formale che in qualche modo deve inevitabilmente dare valori diversi alle due situazioni ma guarda qui tu stai toccando un problema enorme in campo della morale perché io non sono dell'idea che le leggi morali si debbano semplicemente decidere a maggioranza quando a Galileo Galilei capita sempre questo esempio non so perché ma era uno che ci sapeva fare anche nella disgrazia Galileo Galilei gli hanno chiesto ma insomma si rende conto che lei e pochi altri siete dei copernicani mentre il mondo il resto del mondo crede al sistema tolemaico o magari a quello di Tico Brac che comunque crede nella stabilità della terra la risposta di Galileo fu ma per favore le regi scientifici non si decinano a maggioranza e minoranza secondo me nemmeno le leggi morali si decidono a maggioranza o a minoranza o meglio la voce della maggioranza è molto importante purché però sia tenuto conto di un sistema di pesi e contrapesi bisogna saperseli inventare li abbiamo inventati nella democrazia la democrazia se sta in piedi non sta perché la maggioranza decide e il resto zitti questa è una tirannide è la tirannide della maggioranza ma è una tirannide ma perché ci sono dei pesi e contrapesi per cui anche il dissenso di un solo in linea di principio è degno di essere considerato il problema diventerà come poter ampliare questo tipo di considerazioni in un mondo in cui l'algoritmo prende sempre di più questa dimensione sociale questo è il punto forte ma io credetemi se lo sapessi chiederei il premio Nobel ma non lo so e sono convinto che il Nobel non me lo daranno mai e faranno bene pur a non darmelo quindi da questo punto di vista è tutto un lavoro da inventare da inventare con molta come dire con molta lungimiranza perché il fatto che certe macchine che certi congeni siano secondo alcuni degni di protezione e questo è stato già affermato in alcuni paesi è un punto molto significativo cioè non si può pensare che se un congenio ha sbagliato questo debba essere punito distruggendolo immediatamente si tratta di vedere qual è la radice dell'errore e cercare di capire un possibile miglioramento che eviti quell'errore questo richiede una lunga lunga pazienza ma d'altra parte per abituarci alla stampa abbiamo avuto bisogno di 300 anni forse avremo bisogno di altrettanti se non di più per abituarci all'intelligenza artificiale e abituarci anche alle grandi capacità dell'algoritmo o degli algoritmi ricordando che gli algoritmi peraltro sono così efficienti possono essere di grandissima utilità possono sembrarci in certi casi pericolosi come gli esempi che tu hai fatto prima però sono sempre creazioni umane perché un algoritmo lo mette giù qualcuno che idea in quel dato programma e che trova quella formula e quindi come tutte le costruzioni umane sono aperte alla critica di nuovo sono aperte alla discussione da punti di vista anche radicalmente divergenti allora adesso ti ringrazio ovviamente per aver risposto in modo così interessante anche provocativo delle volte alle mie domande e quindi ti faccio un applauso grazie grazie